Venerdì 5 ottobre 2018. Mancano 87 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Placido Martire. L'onomastico. Oggi si festeggiano gli onomastici di Placido, Attilia, Felicia e Flaviana. Cognomi italiani. Il cognome di oggi è Verardi. Deriva probabilmente dal nome germanico Everart. Everardo. Verardi ha un nucleo principale nel Bolognese, un ceppo in Lazio e uno tra Puglia centro-meridionale, il Materano e il Cosentino. La variante Verardo ha tre probabili ceppi nel Salento, nel Genovese e nel Trevigiano. Accadde oggi. Il 5 ottobre del 1962 esce nel Regno Unito il primo film della serie dell'agente 007 James Bond dal titolo Agente 007 Licenza di Uccidere. Il film, ispirato all'omonimo romanzo di Jan Fleming, è diretto da Terence Young e interpretato da Sean Connery. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri al cantante inglese degli ACDC, Brian Johnson, nato a Drunston il 5 ottobre 1947. La citazione da ricordare. C'è qualcuno seduto all'ombra oggi? Perché qualcun altro ha piantato un albero molto tempo fa. Warren Buffett. Dice il saggio. Si può aiutare un bue ad alzarsi solo se lui stesso si sforza di farlo. Proverbio del Sudafrica. Un consiglio al giorno. Quando cuocete della carne con il grill, può essere utile mettere nella teglia sottostante un pezzo di pane. Assorbirà il grasso che cola ed eviterà cattivi odori.